... Mister, alla vigilia lo aveva detto, non andremo a Nocera a fare le barricate e in effetti sin dal primo minuto si è capito che l'Ardea avrebbe giocato a calcio ha subito due gol dalla Nocerina che nel primo tempo secondo me si è fatta preferire nonostante un ottimo inizio da parte vostra, poi nel secondo tempo con un ambiente del genere rimontare due gol ad una squadra così forte è stato quasi un capolavoro Sì, devo ringraziare i miei ragazzi che hanno questo spirito, insomma, si è visto non hanno paura, per questo ho detto a me la mia ragazza, non credo che dobbiamo snagularci dobbiamo continuare a fare quello che siamo pronti perché dopo la penalizzazione comunque stiamo avendo un buon cammino visto che noi non abbiamo dell'età di alta classifica e sì, al primo tempo abbiamo avuto un buon inizio, comunque siamo andati di svampaggio sulla palla inattiva, non è che fino a quel momento avevamo comunque concesso grosse opportunità poi la nostra gentilità ci ha portato a loro e poi per l'inizio del tempo di questa compagnia esigenza devo ringraziare i ragazzi perché penso che ci sia stata una sola squadra in campo e abbiamo approfittato anche noi all'ultima che si stava a rendere lo stile per la Nocerina e i ragazzi hanno perduto fino al ultimo minuto quindi devo solo che l'ora di oggi è l'uno, l'ora di 4 oggi ma anche le nostre settimane Buonasera Kisser, Gennaro Caso, Sareno Sport24 complimenti per l'atteggiamento della sua squadra le volevo chiedere se lei aveva previsto un cambio tra virgolette tattico della Nocerina che si è visto nel primo tempo e se invece il passaggio invece di nuovo a 5 del 2 nel secondo tempo vi ha aiutato a coprire meglio il campo ma avevamo preparato la partita su due moduli e comunque l'invistro della Nocerina ha alternato queste inizio stagioni così si sentono anche le domande quindi poi ci siamo provati a gestirla non si fa facile perché doveva, perché hanno giocatori importanti però comunque eravamo preparati spero che ci sia concesso la gara ovviamente alla fine poi dopo il 2-1 credo si sono un po' troppo abbassati loro e noi abbiamo provato a fare un forse è andata bene poi ovviamente se poi non andava bene era stata la patogenina a abbassarsi e a mettere in proprio questo è il calcio però mi sono ripeto sono sfatto di quello che hanno fatto i miei ragazzi soprattutto per non aver mai smesso di giocare a calcio questa è la cosa secondo me fondamentale della crescita di una squadra giovane mister all'intervallo lei deve aver è intervenuto sicuramente dal punto di vista tattico perché ha fatto tre cambi a rientro negli spogliatoi ma immagino anche a livello psicologico che cosa ha detto ai ragazzi alla fine del primo tempo e poi come giudica credo positivamente la prestazione di Costa che onestamente nel secondo tempo è stato dominante e ha cambiato completamente la partita ma semplicemente a contrarre magari di altre cose noi ragazzi state tranquilli una balla in attiva con il loro nostro che hanno portato a tutto il svantaggio ma era un indietro che magari con il lavoro poi finalmente poteva la partita essere recuperata e così è stato perché non sarà sempre così facile la lettura delle gare sono stati anche infortunati però sì per i tre cambi dettati dall'Oper in più avevo un porta invece di dirottare per l'ander mi importa perché è un cambio pubblicato e la prestazione del signore non mi piace tanto parlarne però insomma Alessandro oggi è entrato bene Costa e al contrario come eri qui altre volte che si piace un po' troppo e invece oggi è stato utile e questo deve essere da qui e nell'anno ci rivediamo noi e noi primi studi di avvento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.